Guarda Vanessa, questa palla di neve! Sì, si muove! Sì, si muove! Che mi saluta! Oh, dove siamo? Ma ragazze, dove siamo? Siamo nel trenino? Sì! Siamo nel trenino? Ma come mai? Wow! Ma che bello! È tutto magico! Hai visto, Erika? Sì! Come mai siamo arrivati? Di scuro Babbo Natale, magicamente ci ha teletrasportato al suo villaggio! Sì! E adesso, ragazzi, scopriamo insieme... Ciup, ciup! C'è Babbo Natale! Lì, c'è Babbo Natale! Vedremo anche la sua casa! Forse anche la fabbrica dove ha fatto un ilegale! Forse non c'è Babbo Natale a casa! Cosa? Non c'è Babbo Natale a casa! Non sarà Babbo Natale? No! Forse lo incontreremo per davvero! Cosa ne dici, Erika? Sì! Ehi, ciup, ciup! Ciup! Ciup, ciup! Ciup, ciup! Eccoci noi! Siamo lì! Andiamo lì! Guarda, questo orsacchiotto grande! Wow! Siamo arrivati alla destinazione! Cosa c'è? Allora, qua c'è scritto Premi il pulsante e ascolta Gnomo giocando! È un orsacchiotto! Guarda, sono i gnomi di Babbo Natale! Si muovono! Sono veramente veri! Allora, di sicuro questa è la casa di Babbo Natale, o no? Mamma, che è l'opo! Ma ci sono delle storie! Qua! Ma è tutto in grande qua! Sì! Sono questi libri di Natale! Ecco, mamma! Ecco, aspetta, vediamo! Il villaggio di Babbo... di Natale! Ecco, Babbo! Ma c'è cosa stavo leggendo io? Cioè, sono affascinata! Sono molto emozionata! Il villaggio di Babbo Natale! Sono i regali! Non ci... C'è questo cavallo gigante! Mamma è una missa! Dai, andiamo! Andiamo avanti! Wow! 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 Che bello! E ciao! Ciao! Wow! Wow! Mamma, mamma! Cosa c'è? Wow! Venite qua, Vanessa! Guarda! Questi orsacchioti stanno dormendo! Wow! C'è un marino! Wow! Che bello! 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 E Vanessa, cosa stanno facendo? Cosa c'è? E cosa stanno facendo? E cosa stanno facendo con i nomi? Ciao! Allora, c'è latte fresco! Ma cosa stanno preparando, Erika? La torta! Cosa stanno combinando qua? La torta! Vediamo, vediamo! Stanno preparando una torta gigante! C'è un orsacchiotto! C'è un orsacchiotto lì! Che lo stanno mangiando! Wow! Cosa vedi questo? Guarda! C'è l'orsacchiotto! Ma cosa stanno facendo? Stanno appattivando! Io direi che qua stanno facendo una gara! Gara di sci per orsetti coraggiosi! Chi vincerà? Allora vediamo, scopriamo insieme chi vincerà! Eccoli! Eccolo lì sopra! Eccolo sta arrivando! Arriva! Ciao! Ciao! E parte quell'altro? Eh sì! Dopo andiamo fuori! Andiamo fuori! Andiamo a vedere cosa c'è ancora! Appena usciti dalla fabbrica dove Babbo Natale sta facendo i giocattoli, proprio davanti c'è la pista da fattinare! Ma dove sono le bimbe? Eccoli! Dove siete? Eccola! Entriamo anche qua! Ingresso casa di Babbo Natale! Oh! Ma guardate! Questa è la casa di Babbo Natale! Sì! Wow! è l'ufficio postale di Babbo Natale! Entriamo! Wow! Erika! Lo sai cos'è qua? Sì! Cos'è questo posto? è l'ufficio di Babbo Natale! Erika! Erika! Lo sai che qua tutte le letterine arrivano e Babbo Natale preparano i regali per i bimbi bravi! Guarda! Erika! Ma vediamo! Mamma! Dimmi! E' l'elfo! Elfo! Che carino! Questa è la casa! Ecco sono le letterine! il giocatolo di Vanessa! Lo prendo io! Wow! Vieni Erika! Wow! Ma che carino! Ma noi abbiamo visto la casa di Babbo Natale! Forse più avanti! Guardate lì! Oh! E' un aeroplano! Wow! E' un aeroplano! E' un aeroplano! hanno giocatolo! Wow! Bimbe, ma avete visto? Sono tanti orologi qua! Come mai sono i orologi? Come mai? Questo è un soldatino! Vi ricordate la storia del soldatino di Stagno? Sì! È proprio lui! È uno di loro perché non è quello che non ha un piedino! Questo soldatino ha tutti i due i piedini! Forse siamo vicini! È il cibo di Babbo Natale! Wow! Eccoli c'è il frigo! La verdura! I dolci! I dolci! Ma proprio Babbo Natale ama da morire i dolci! Guardate sono tanti i dolci! Wow! Dici che questa è la casa di Babbo Natale? Sì! Guarda l'ho fatto con Babbo Natale! Babbo Natale con i suoi aiutanti! Sono gli elfi che lo stanno aiutando! Wow! Era qui! E qua è la sedia! È la sede di Babbo Natale! Oh! È l'albero! Ma guardate bimbe! Sapete che questa è la casa di Babbo Natale? Siamo proprio nella casa di Babbo Natale! Vanessa! Guarda lì sopra! C'è una foto di Babbo Natale! Ma lui dov'è? Ma dov'è Babbo Natale Vanessa? Non lo so! L'hai visto Erika? Ma abita qui! Abita qui! Questa è la sua sedia! Wow! Ragazze guardate lì avanti! Sì! Sì! C'è la sfida di Babbo Natale! Andiamo a vedere! Andiamo andiamo! Coriamo! Coriamo veloce a vedere! Dai 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 dai! Mamma andiamo qua! Dai andiamo andiamo! Ecco! Vanessa tu dove vuoi? Lì! Sicura? Ti aiuto a salire? Ecco! Vai 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 vai! Io qua! Brava! Vieni! Ma è bagnato! È bagnato! Attenta le manine! Ecco! Tieniti bene! Ma non è bagnato! No! Qua non è bagnato! Allora! Vediamo dov'è la Erika! Ma è bagnato! Allora! Trovo una! Eh sì! Lì c'è l'acqua! Vediamo qua! Anche lì! Allora! Vediamo vediamo vediamo! Guarda qua è tutto! Erika qua! Cosa ne dici? Vai lì sopra! Volevi venire tutti e due qua? Sì! Allora dai! Vieni giù! Brava! Tutte e due qua! Sì! Sì! Vedete venite tutti e due! Prova! Sì! Sì! Vedete trovate il posto bellissimo! Meraviglioso! Tutte e due datevi le manine! Tenetevi bene! Siete pronte? Sì! Sì! Oggi è una giornata molto molto divertente! Tre due uno! Partite! Ciao! 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 Ci vediamo a casa allora! Buono! Ciao! 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 Io vedo l'ora di scoprire cosa c'è ancora qua! Eccoli! Contentissime! La fragmentsita! E questa è la magia di Natale? E' una magia di Natale Che divertente Ecco, Vanessa vuole dormire Dove volete andare? No Volete andare? Sono scritto di bobo Natale allora Sicura Vanessa? Sei sicura? Ma che bella Va bene, facciamola Wow Dai, 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 su, su, su che fra poco partiremo Allora, le cinture si dovranno mettere? Sì, amore, vengo vicino a te No, amore, vicino a Erika Vicino a Erika Ecco, cambio Ci cambiamo, vicino a Erika Fatto? Sì La cintura? La cintura Grazie mille Gravissime Sediti bene, piccola Sì, penso qua Allora, teniamo premuto il bottone verde perché la vettura va da su E quello rosso per scendere in giù Pronte, bimbe? Sì Non vi vedo Sì Sì Pronte? Sì, è su Sì, è pronto Andiamo su, 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 su Andiamo su, 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 mi piace il bottone Sì Da qua si vede tutto il milagio di popolo natale Che bello, che divertente Sì 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 Mi chiedi il parcheggio Vanessa, tieniti bene Ciao a tutti Sì Sì Bimbe avete fame voi? Sì Allora Scendiamo e si va subito a mangiare qualcosa qua al villaggio di popolo natale, non vedo l'ora Sì, fermiamo Ferme Andiamo Ci vediamo fra poco Cosa volete mangiare? La pizza La pizza La pizza Ecco c'è la pizza lì Buona la pizza Buona la pizza? Sì Siamo lì Per me un cappuccino E anche la Vanessa Buona? Piace? Dopo mangiamo anche il dolce Cosa potresti mangiare? Un pancake Un pancake Sì No Cancake Cancake Sì Dopo ti dico Me la fai vedere va bene Ecco abbiamo finito di mangiare Ma adesso prendiamo il dolce Ah sono le luci Wow le luci di Halloween Sì Già è passato Halloween Sì Questo è il mondo di Babbo Natale Sono i giocattoli Accessori Vi devo dire una cosa Cosa? Per Ritornare a casa Bisogna Trovare Una palla di neve Babbo Natale No Babbo Natale no Perché abbiamo trovato dappertutto Non lo troviamo Di sicuro non lo troveremo No Sì Guardate quanti accessori Sì Tutto rosa Guarda Cogniglietto C'è È un cagnolino È anche la borsa quella signora Palina niente Nessuna traccia Non lo so Ancora no Mamma Babbo Natale mi ha salutato Dove è Babbo Natale? Cosa sta dicendo? Dov'è? Mi ha salutato È lì dentro? Sì Vediamo Siamo ritornate a casa Sì Sì Ma ragazze veramente siamo stati al villaggio di Babbo Natale? Sì O forse abbiamo sognato Siamo stati davvero al villaggio di Babbo Natale Veramente? Sì È questo Babbo Natale che ne ha fatto portare Sì La magia di Natale Sì Babbo Natale ci ha teletransportato al suo villaggio Sì Allora questa E ora ho portato Una bambola Sì Santa Lucia ti ha portato la bambola Guarda Babbo Natale Dovrà portare forse un'altra cosa Chissà Oddio Questo Natale è molto molto magico Allora dammi questa pala di neve Perché la dobbiamo mettere da una parte Sì E la dobbiamo conservare perché è magica Il video finisce qui E speriamo che veramente vi sia piaciuto E mettete tanti lanchi Anche correcini Anche bacini Oh Iscrivetevi ragazzi al nostro canale E di mettere tanti like Fate Fate Fate